Liberare la superficie di Piazza Dante dalle auto realizzando un nuovo parcheggio interrato sotto il vecchio stadio comunale. Zone 30 diffuse nelle aree urbane, nuove aree pedonali, anche temporanee, senza perdere posti auto in via Vittorio Veneto, via Comi e via Campana, corsie ciclabili fino a San Nicolò, almeno una strada scolastica, cioè a uso pedonale, entro la fine delle lezioni di quest'anno. Sono le osservazioni al PUMS conredate da specifiche raccomandazioni presentate dall'associazione Innova Teramo che fa capo all'ex assessore alla mobilità Maurizio Verna. L'amministrazione comunale sta continuando un percorso già iniziato negli anni precedenti, sta muovendo bene l'assessore in modo particolare con molta determinazione e coraggio. Noi siamo nati come lista le scorse elezioni appunto per cercare di dare più forza e più spinta a questo modo di vedere la città con la speranza che determinati provvedimenti vengono portati a termine, ovviamente dopo una dovuta discussione con tutti i soggetti interessati. Tra le osservazioni ci sono alcune proposte bandiera come il recupero del progetto originale di pedonalizzazione di Piazza Dante e lo sviluppo di una cultura dell'uso pubblico degli spazi che privilegi i soggetti deboli a partire da chi frequenta le scuole. L'amministrazione in questo momento ha messo tutto in stand by perché c'è in città comunque una situazione di cantieri dovuti a sisma e a 110 che dà molte problematiche. Noi speriamo che con la realizzazione del parcheggio interrato all'ex stadio, con sopra speriamo anche un parco urbano attrezzato e non un campo sportivo, appunto con la realizzazione di quel parcheggio si possa poi liberare definitivamente il parcheggio di Piazza Dante, si turla ai cittadini.